E ti restringe in tre secondi. I profoli ci sono, eh? I tre belli che non si vedono. Oh, non si vedono? Guarda qua. Per quel fondotinta. Il fondotinta di Elfo, una volta l'ho rimesso, mi arriva molto. Questo è un po'. Non è tre. È un po' più. Solamente che se ne riesce a scegliarli. Se ne riesce a scegliarli. Se ne riesce a scegliarli, è per forza l'obbligo. Oh, mi stavo tenendo addosso. Se ne ho limonata tutta. Ti voglio razzinare il blush selfie. Cos'è che hai detto? Ho detto che mi sono limonata tutta. Sto notando, cioè. Beh, direi basta. Direi che questo non si è. Oh! Oh! Ma ti devi lavare la faccia adesso? No, vado giù. No, ma di così lava la faccia? Certo. Vabbè, vieni di roto alla faccia, vieni tra. Che cosa ne so? Mi sono piccata a pelare la faccia e l'occhio. No, ma ora è del 24. Giù ce l'ho rosso, guardate. Giù ho l'occhio rosso. Il blush. Non è cambiato niente. Fatti vedere. No. Fatti vedere. Cioè, tutti i grumi in faccia. Che schifo. Mamma mia. Poi mi chiedo perché non c'è più il licone. Lo usa così. E in quanti sbatti ho fatto sto per la prata. Cosa? Dov'è? Guarda. Cosa sto dicendo? Ah! Guardate, già ho l'occhio rosso. In più mi sono messo anche il blush nell'occhio. Troppo, troppo. Bello. Bello. Comunque, oltre alla mia, un di questi giorni, devo subito andare a comprare pantaloncini, tute. Perché sì. Perché sì. Perché sì. Che male. Già. Già. Eccolo. Non ti sbatti, l'ho fatto solamente per la prata. Adesso le tanti saranno ben caro. Subito. Oh! Comunque raga, da quando... Non mi ricordo se ero in diretta, però penso di sì. Che era uscito tutta la cifra. Ce l'ho ancora, guardate. Non è ancora finita. E quanti sbatti ho fatto... Mamma mia, questa canzone... Ops, stiamo. Ma posso scordarvela? Posso. Ops, stai benissimo, grazie. Comunque raga, io non capisco ancora, non ho ancora trovato il metodo. Anzi, no. Cioè, l'ho trovato, so qual è il metodo. Però, non l'ho ancora provato. Per far durare di più il trucco. Perché se no, raga, ogni volta... Cioè, devo ritruccarmi da qua. Non da qua, però comunque... E' come se... Cosa è scritto sulla guano? Adesso ve lo dico, aspettate. Porto il computer più scarica materiale. Perché se no, mi dimentico. Certo, non è bello da vedere, perché adesso lo dovrò togliere. Automaticamente mi scorderò di portarlo. Sono certa. Non sono certa. Però, fa niente. Io non faccio i video con queste cose scritte sulle mani. Nella mano, cioè... Il mio profumore ha... Non trovo la cosa. Troppo bella, grazie. No, non vedo più niente. Ecco... Ho tutti questi fazzoletti, che uso per niente. Ce li metto qua dentro, in realtà, per pulire... I prodotti, solamente che voglio solamente da scuola e quindi non li butto. Perché non li porto i trucchi a scuola, però la mattina li lascio in macchina. Allora, queste sovracciglia le devo rifare, quindi... Non studi! Non studi! Ok, basta. Guarda che vedi che si sono tolti? Molto probabilmente. Lo faccio pure io stasera. Utilizzeremo la metà della Giorgia e poi vi farò sapere. E tu devi tenere il ghiaccio. Oh, è vero! Sì, ho capito. Non è che mi devi tenere gli schiampi, però... Cosa stavo... Dai! Oh! Cosa stavo dicendo? Ah, delle sovracciglia! Le devo rifare, cioè non andrò da resistire, le farà mia mamma, come al solito. Ma anche sai cosa devi mettere? Hai visto? E devi mettere il ghiaccio, i cubetti di ghiaccio. Infatti lo vedi a fare. Come sai che l'altra notte ho dormito con il ghiaccio sugli occhi? La maschera... No, 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 il ghiaccio. Non i cubetti, però... E niente. Ho dormito finalmente. Ma si è tolto? Ma non i brufoli, gli occhi! Sì, ho capito, ma di solito se metti il ghiaccio sugli occhi serve per togliere le... Le occhiaie. Ah, no, non l'ho utilizzato per quello. Oh, qua l'ho messo. Perché mi bruciano. Cioè, io raga, faccio di tutto pur... Pur dire... Non farmi bruciare gli occhi e farlo continuamente così. Però non funziona. Alla sera prendo sia l'altistamine che metto le curce, quindi... Non la mattina perché sennò mi addormento in... In classe. Cioè, già ho sonno. Figuriamoci se prendo l'altistamine o proprio faccio sei ore di solo a scuola. E poi... Bene. Non è uno il mio blocco? cosa è scritto sulla mano l'ho già detto portare computer più scarica materiale che adesso la provo mi sono uccicata al momento l'occhio molto probabile ti fai le domande e ti fai le risposte ma Tony ti ha comprato la borsa Tony ti ha comprato la borsa hai capito? la battuta non sono nata ieri io come ti fai i capelli lisci o ricci no 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 ripasso la piastra così spero di me ci mancherebbe altro poterli così tu di a volte parte ho c'ho questo bocchino che non si vuole chiedere l'orecchino no 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 sui sopracciglia certo quando eri piccolino ti sei mai fatta il tagliare le sopracciglia lo voglio fare per favore ho sparato la cavolata no però voglio farmi il piercing all'ombelico guarda 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 il mio sopracciglio non ce la posso fare 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 ecco giustamente lei non fa niente raga raga poi vorrei avere i suoi pomeriggi che non fa niente arriva a casa si sistema per quel video che deve fare poi dorme tutto il pomeriggio cioè non fa niente raga ho fatto i suoi mangia le patatine infatti sono sempre mangia le patatine poi dormi ovviamente fino alle 8 di sera e ecco e poi per finire dormi nuovamente mangia e dormi mangia e dormi raga io faccio i compiti studio oltre i compiti faccio i contenuti faccio i contenuti in più vado tutti i giorni a danza il lunedì c'è la radio raga io ho una vita molto impegnata per questo che vuole averla su non fa niente faccio di tutto faccio di tutto allora cosa mi manca? raga io non mi ricordo più le cose una volta ero a scuola no? e mi guardo bene perché non avendo lo specchio non in bagno ma ce lo portiamo noi perché avevo fatto tipo una proposta di fare una un armadietto con tutte le cose utili per le ragazze mettere lo specchio ma non è stato ancora fatto cioè l'armadietto ce l'hanno rifiutato invece lo specchio in teoria dovrebbero metterlo ma prima di adesso quindi abbiamo deciso di di portarlo in uno cioè in realtà c'è una nostra amica quindi mi stavo specchiando e ho detto ma oggi ho lo sguardo strano c'è qualcosa che non non quadra dico ecco l'illuminante l'ho messo perché io mettendo qua all'interno dell'occhio dell'illuminante mi cambia lo sguardo e quindi se non lo metto sono strano cioè non è che sono strano non cambia di niente però non è da meno metterlo cosa fai oggi? allora oggi fortunatamente non faccio inglese perché hanno le confidi e anzi in realtà in realtà devo scaricare solamente dei video e delle foto e poi in teoria dovrei studiare altre materie che adesso non mi ricordo quali sono poi devo fare appunto dei video e per finire non capisco perché dal video sembra che qua sono in me non c'è niente adesso non capisco non capisco Vabbè Comunque Devo fare appunto dei video E in più Devo andare ad onza Alle 6 in teoria Mi deve portare ad onza Perché A me non basta No Le tre ore che faccio il mercoledì C'è la mia Non lo facciamo Non basta le tre ore che faccio il mercoledì No Mi servono ore in più Mi servono ore in più Come il giovedì mi serve Mi servono due ore in più E per finire Il venerdì giustamente Non mi accontento Ragazzi manca solo che Adesso vado a fare il fine settimana danza Non ci riuscirai Ma proprio per Per niente Ma proprio per niente Arrivo finita al sabato Che dico Adesso devo uscire È arrivato il momento di uscire Ehm Capelli Ciao Anna C'era che ieri mi sono lavato i capelli Sembrano giù sporchi I capelli Molto confi Ma guardata 60% di acqua Io c'ho una sete che mi ammazza Guarda Non sono la pallina del centro Se facci danni dopo Se volete un bacetto Allora Dividiamo Separiamo Due capelli Leghiamo questi Che Raga comunque si stanno scurendo un po' troppo i capelli Non va bene Non va per niente bene Dove sono finiti i miei capelli biondi? Lunghi Lucenti Spariti Spariti Pollo Mi 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 In più non so come vestirmi Perché Giustamente Potrei farlo anche con questa maglietta Però Una cosa inizio Quante pomme Raga Sono con te Allora Da una parte Vorrei tagliarmi nuovamente i capelli Dall'altra Vado a farmi allungare Cosa faccio? Cosa faccio? Li lascio lunghi? Cioè li lascio allungare? Oppure li ritaglio Ritaglio Taglio nuovamente Con te Ma mi Pone un po' Allunghi Lughi 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 Tagliali Tagliali Significa Fino a qua Che in realtà Allora Ce li avevo così corti Quanti tempo fa Tipo L'inizio Non dell'anno scorso Di due anni fa Quindi del 2022 E Prima che io li tagliassi Ce li avevo fine qua Raga Erano Lunghissimi Erano Lunghissimi Adesso Ce li ho Di una lunghezza Media Questa lunghezza Raga Giuro che Non mi piace Non tagliare Ponte Pami Pone un po' Novi Non lo posso Questo fatto Come si parla Posso fare Che si pote Tagliali Non tagliarli Lasciali lunghi Ma aspettate Devo capire Come Vedi Sono strani Ah ok Ho capito Io li voglio Così Esatto Facciamo che Continuo a Pestrarli E poi Adesso Questa parte Qua Sennò Tra poco Mi cadono Lunghi Ti stanno Bene A caschetto Però Non posso Tagliarli Più di tanto Perché Con l'anza Mi piace Poi Paschetto Poi Paschetto Poi Ponte Pami Ne Poi Lumi Poi 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 Alì, termoprotitura. Lo sto utilizzando per leggere il telefono. Le punte. Così, quindi, tipo... Quante pomme e quale nome? Dove raga? Non lo so, le punte. Comunque raga, prima ero troppo, cioè... Avevo i capelli chiarissimi adesso e invece stanno scurendo. Che fastidio! Che fastidio! Ok, qua come devo fare? Lo devo fare così. Ok, poi lo mi... Non era proprio così, ho detto sinceramente. Ecco! Sto vedendo, adesso rimarranno così i miei capelli. Tipo... Così. 5. Perché raga, cioè se li tengo così davanti... Guardate che in bocca non sono una cosa migliore però... Tutti elettrizzati... Cioè se li tenessi... Così... Non sembra che sono troppi, guardate. O li tengo sempre così... Intendo... Come sono messi... Oppure... Così... Aspettate... Fatto sta che... In qualche modo... In questo momento vorrei tagliarli in una maniera... Mi sento... Ingombranti con sti capelli... Cioè se... Sono troppi... Sono, sono troppi... Invece prima ce ne avevo belli lunghi, piccolini... Ponte Pamela... Le pallone... Le pallone... Le pallone... Mi sento... Allora di me... Donde... Tatti... Ho fatto un casino ragazzi... Ho fatto un casino... Vabbè... Ho fatto un casino... Fai i capelli mossi... E non ho tempo... Se avessi avuto tempo... Avrei fatto... Fatti esercine... Le trecine... Le... Le trecine... ...Non devo evitare poi l'ome... oddio ma i capelli mossi però sono nativi in che senso non ho capito c'è qualcosa che non? sono strani proviamo a fare quella cosa tipo così non pensi così faccia così ah si era così aspetta aspetta colorica stortissima colorica storta non riesco più a fare una ditta comunque ci sono sempre dei capelli fuori posto sicuramente sicuramente devono venire così sicuramente sicuramente vabbè perché sono troppo attaccati bella c'è un mio sbaglio che non vado alzare quindi questi no? quasi ampio poi questi è no raga io non capisco più niente ho dei capelli strani interrò i miei capelli strani purtroppo non si possono cambiare i capelli telettrizzati boh 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 lasciamoli impostare ah 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 scusate voglio piangere ma riesco a ridere oh ok stemmiamo qua dai mettiamolo dietro come al solito raga non posso cambiare cioè devo fare sempre e infine le stesse cose dovrò metterle dietro per la fome eeeh niente stupendi guarda stupendi promossi ma raga non capisco perchè perchè sono così scusate non sto capendo chi gliel'ha detto di stare così? come ti vesti? bella domanda bella domanda proviamo così ok ok mi so per arrabbiare bene bene ho trovato boh boh raga lasciamoli impostare facciamo niente adesso mi cambierò vedrò cosa mettermi vi saluto dobbiamo dare grandi braccia e grazie di avervi